a bologna come si sta bologna si sta benissimo come ti dicevo sto in campagna ma che differenza c'è dal punto di vista tu che comunque torino l'hai vissuta anche dal punto di vista culturale artistico in maniera abbastanza intensa che differenza c'è fra l'atmosfera ecco artistica culturale di bologna e di torino ma sono due città completamente diverse sono due città completamente diverse storicamente socialmente architettonica urbanisticamente in realtà bologna è una città di impianto medievale con un centro storico molto ristretto con questa situazione urbanistica che si è sviluppata concentricamente verso dal da un centro verso una periferia una città universitaria in cui un terzo delle persone sono studenti dell'università questa tradizione millenaria dell'università più antica d'europa torino invece è una città barocca una città che si sviluppa attraverso assi che ovviamente derivano dall'impianto romano però sono perpendicolari grandi viali alberati completamente diverso una città post industriale una città che ha completamente rivissuto una nuova era dopo le olimpie del 2006 una città se vogliamo anche post proletaria e quindi con un'abitudine alla frequentazione degli spazi espositivi se vogliamo entrare più nel dunque una abitudine alla frequentazione degli eventi culturali completamente diversa pertanto che torino sia stata la capitale dell'arte contemporanea dall'arte povera dal castello di rivoli ruoli centrali che hanno avuto alcune istituzioni pubbliche e private nella storia recente dell'arte contemporanea il pubblico dell'arte è completamente diverso bologna una città in cui grazie a magari l'ambiente culturale l'antagonismo anche i concerti la musica l'abitudine alla frequentazione dello spazio culturale in genere che va dalla musica la performance ai musei di arte contemporanea è completamente diversa qui c'è una risposta del pubblico completamente diversa da torino c'è un'attenzione e soprattutto riuso questo termine un'abitudine alla frequentazione dello spazio espositivo che per chi arriva da fuori molto interessante anche diversa e ovviamente questo non è dovuto a nessuno sconvolgimento recente anzi questo ha radici profonde radici profonde che si legano anche molto alla storia dell'istituzione galleria d'arte moderna la storia dell'istituzione mambo perché ovviamente c'è un'abitudine dovuta anche all'intraprendenza di alcune direzioni alla alla proposta mai si è nella storia adeguata la proposta una presunta mancanza di interesse o mancanza di voler avvicinarsi a contenuti alti del pubblico di bologna qui negli anni 70 se c'è la settimana per spazio frequentatissima i concerti e tutta questa se quindi è vero che qui quando si propone un contenuto anche apparentemente per addetti ai lavori autoreferenziale o difficile che anche se bisognerebbe poi parlare di che cosa è difficile cosa no la risposta è decisamente alta e questo è molto bello ovviamente e chiudo perché secondo me c'entra e volevo citarlo in questo argomento influisce moltissimo anche il fatto che accademia e università siano molto vicini a questo tipo di attività culturali e rispondano veramente alla grande portando gli studenti e partecipando molto attivamente quindi cioè venendo al tuo lavoro al tuo ruolo all'interno di questo di questa istituzione mambo tu sei direttore ormai da un paio di anni qui al mambo è diverso quindi lavorare in un museo in una città come bologna piuttosto che in altre città d'italia cioè vantaggi e svantaggi quali sono bisogna fare una premessa non lo sapevo questa immagine non ho mai diretto un museo prima di questo perché comunque l'impiego che io avevo alla fondazione san vettore rebauda in gottorino era di tutt'altro tipo mi occupavo più di curatela degli eventi espositivi quindi di coordinare delle residenze e poi era una era una fondazione privata e sicuramente pertanto che magari anche il pensiero comune sia un po distorto perché alla fine le dinamiche di un museo di arte contemporanea sono quelle alla fine ci si occupa di mostra adesso la fondazione san vettore e bodengo non ha una collezione impermanente mentre qui c'è anche una collezione permanente però alla fine le dinamiche di funzionamento le professionalità museali le relazioni interne sono quelle quello che per me è cambiato radicalmente era era proprio una questione di mansioni perché appunto passavo da un'attività più legata alla curatela produzione di contenuti a una professionalità più legata al management al coordinamento e poi qui sono responsabili di sei differenti spazi e che anche vuol dire avere un po di apertura mentale nella proposta sempre tenendo conto delle tipicità di ogni spazio parlando di tipicità è assolutamente impossibile paragonare città diverse e soprattutto istituzioni diverse ogni storia ogni città ogni museo favore storia a sé stante sì e questo è ancora di più acuito io me ne rendo conto quando facciamo le riunioni amaci e quindi associazione dei musei di arte contemporanea italiana in cui ci sono 24 direttori di 24 musei pubblici di arte contemporanea moderna e contemporanea in italia e quando ci incontriamo ci rendiamo conto sempre ed è molto bello anche stimolante perché stimola il confronto di quanto siamo diversi certo ci sono musei come il mambo che sono musei civici municipali che quindi afferiscono a una municipalità una città ci sono i musei regionali ci sono i musei ministeriali ci sono musei che sono associazioni culturali ci sono i musei che sono in parte pubblici in parte privati chiaramente quando ti trovi a lavorare in una realtà diversa o così dissimile da qualsiasi altra ti devi calare in questa realtà qui quindi è impossibile dire ho trovato la stessa situazione le dinamiche possono essere simili però devi cambiare radicalmente la tua testa e adeguarla alla misura di una città le misure quindi della dell'ambizione che può avere il posizionamento che può avere lo spazio in cui ti trovi a lavorare ma soprattutto le tipicità dovute all'organizzazione stessa di quello spazio questo museo civico per cui gli interlocutori sono i cittadini il sistema dell'arte di bologna la regione emilia romagna che comunque bologna è il capoluogo il punto di riferimento la storia pregressa di quell'istituzione attiva dal 75 che è comunque una cosa da tenere a mente e poi ovviamente tutti l'istituzione bologna musei la giunta al sindaco assessore alla cultura e sono un sistema a cui devi fare riferimento perché questo posto si regola in questo modo e quindi come si fa appena arrivi in un posto è così nuovo da fuori a fare i conti con tutto questo con tutto il pregresso e con tutto quello che si porta dietro un museo che c'è questa storia come una storia come una cosa la prima studi studi la storia e questo è stata la prima cosa che ho fatto quindi è stato un viaggio affascinante ovviamente conoscevo gli eventi più importanti settimana della performance le grandi mostre l'apertura del mambo convertigo però mi ero perso tanti pezzi tante vere conoscevo molto bene la serie di mostre aperto perché le avevo studiate le avevo viste però sono più entrato nel dettaglio la seconda cosa è ingrassi non fai tantissime cene e che a bologna infatti sono ingrassato in questi due anni perché vuol dire quello devi capire chi sono gli interlocutori e andare in giro per opening in giro per le gallerie private a conoscere i collezionisti gli sponsor gli industriali più vicini con sensibilità verso quello che fai e ti cali in questa realtà infatti essenziale essere presente anche perché comunque un'istituzione come la galleria d'arte moderna ora mambo e deve ribadire quotidianamente la propria centralità e quindi il proprio essere un punto di riferimento per un sistema e lo si è solo con la presenza quotidiana indagando e conoscendo gli attori principali chiaramente venendo da fuori non era così per cui il primo periodo è stato anche molto bello chiaramente un lavoro fatto di relazioni fatto di conoscenze conosciuto persone affascinanti mondi che non conoscevo anche se erano molto vicini a casa mia però è stato bello adesso sono le persone con cui lavoro e con la per fatta ma quindi un museo come il mambo diciamo un museo di arte moderna e contemporanea in generale e in particolar modo questo riesce secondo di essere davvero un punto di riferimento per una comunità per un territorio o ci sono delle dinamiche faticose o la gente lo vede un po come una cosa distaccata o invece riesce a entrarci dentro e farlo come una cosa sua come casa propria devi farla a me questa domanda perché io sono di parte noi abbiamo l'ambizione di dire che sì abbiamo l'ambizione di dire che il museo tramite le proprie azioni ribadisce questa centralità e questo ruolo anche strategico e lo lo fa in modi diversi cioè essendo già la casa di una collezione pubblica valorizzando esportando comunicando un bene pubblico assolve a parte di questo ruolo noi abbiamo dedicato uno spazio che non c'era che è stato strappato dalla dalla collezione dal percorso della collezione permanente l'abbiamo chiamato con scarsa inventiva project room e tutta la programmazione della project room che di solito consta di tre quattro mostre l'anno è incentrata sul territorio quindi abbiamo pensato che per produrre proporre una programmazione nella sala delle ciminiere quindi nello spazio principale più grande aulico più importante del mambo volevamo portare avanti una programmazione di alto respiro internazionale con artisti mai visti prima in italia le nuove generazioni media sperimentali questo lavoro lo possiamo fare solo se dedichiamo uno spazio al nostro territorio portando a galle esperienze del passato avendo la possibilità di fare delle mostre più archivistiche anche più storiche guardando si può indietro per capire che cosa possiamo proporre oggi su quella scia e in questa chiave sono state già realizzate da quando sono qui quattro cinque mostre che vanno proprio in questa direzione si è parlato di alcuni personaggi particolarmente importanti che hanno legato attorno a loro un intero sistema dell'arte sistema cittadino come ad esempio roberto da olio abbiamo parlato di alcuni galleristi che hanno il pregio di aver portato in questa regione delle eccellenze che altrimenti non sarebbero mai arrivate e hanno da lì dato il via a una nuova stagione come rosanna chiesi che ha portato fluxo se l'azionismo viennese a cabriago e quindi è stato veramente un momento significativo abbiamo parlato di media quindi ad esempio abbiamo dedicato una mostra a in collaborazione con l'università tutte queste mostre sono sempre fatti in collaborazione con altre istituzioni del territorio ai vhs la produzione sperimentale in vhs della fine degli anni 90 che è una cosa nata a bologna nata link dove arrivò questa macchina che permetteva di doppiare per la prima volta dei vhs si è espanse in tutta italia questa è stata occasione per rimettere insieme questi collettivi anonimi e fare un archivio di queste esperienze quindi adesso abbiamo una mostra dedicata al gruppo reste che sta coinvolgendo sulla modalità di ingaggio che usava il gruppo reste molti degli spazi indipendenti artisti del territorio vedo dopo un anno e mezzo con questa insistenza su questo tipo di mostre che molta gente molte persone si sentono rappresentate dal museo questo è molto importante perché va proprio incontro quello che dicevi il museo non è solo un luogo di esposizione ma anche un luogo di rappresentazione della comunità locale e l'attività della project room va molto in questo in questo senso qua ovvio che ci sono altre cose che potremmo fare stiamo pensando a un nuovo evento che ricorrente che verrà poi lanciato nei prossimi mesi dedicato proprio agli artisti bolognesi cioè creare anche massa critica creare uno spazio all'interno del museo che possa funzionare come luogo di aggregazione un po come i caffè parigini per la comunità artistica e soprattutto quello che io auspico e che spero di riuscire almeno da avviare nel periodo in cui sarò qua bisognerebbe identificare uno spazio da dedicare a studi per artisti a bologna questa è una carenza che questa città e che il museo proprio per il ruolo del museo che stiamo costruendo anche in questa chiacchierata deve assumersi quindi io penso che dei mambo studios dovrebbero essere comunque un obiettivo principale perché il fatto di portare a bologna degli artisti magari ogni anno diversi che creano appunto comunità e scambio con la comunità esistente magari poi si fermano o comunque è un arrivo che crea anche dibattito debba essere comunque uno sviluppo giusto e che questa città si merita certo anche perché bologna comunque è una città ormai di respiro internazionale quindi è anche giusto ma come funziona poi quindi il rapporto fra il lavorare del locale e l'essere aperti all'internazionale cioè come è bello per quello è bello per quello perché io penso che riusciamo a legittimare la scelta di portare mica rotte superstar dell'art system internazionale piano di sotto con le sue installazioni video visionarie iper contemporanee grazie al fatto che sopra diciamo ok ma noi nel 95 qua facevamo questo tipo di sperimentazioni con i vhs quindi stiamo proseguendo la nostra indagine recuperando da un lato gli antefatti e facendoli rendendoli visibili dall'altro stiamo proseguendo su questa scia cercando di portare in questa città degli artisti che si meritano di entrare a far parte di quella storia e questo un po ruolo che il museo si vuole ritagliare come punto di riferimento come ti dicevo che poi è una partita che si gioca anche a livello istituzionale a quel punto perché il mambo è comunque un luogo aperto questa è questa parola questo aggettivo è l'apertura e essere aperti è un po la bandiera no di questa direzione noi abbiamo aperto tutte le finestre gli spazi una grande vetrina che dà sui portici e questo essere aperti lo è anche in sede istituzionale quindi il mambo ospita fa parte collabora con tutti i festival di arti visive danza performance di bologna perché proprio questo il nostro ruolo valorizzare anche queste esperienze indipendenti o private che sono un po veramente il cuore della produzione culturale di bologna quindi il mambo vuole essere un punto di riferimento e quindi giustamente live arts week gender band robot will ball bull ti potrei fare una lista lunghissima di festival di iniziative premi laboratori workshop e giustamente devono interfacciarsi un po con la realtà del luogo e noi siamo felici che si sia creata questa consuetudine per cui in qualche modo si passa sempre dal museo ma quindi per gestire tutto questo ambaradà ormai nel nel lavoro di direzione di un museo quanto c'è di management quanto rimane di artistico quanto quanto sei manager purtroppo sei costretto essere il curatore lo faccio pochissimo curatore ti manca mi manca molto e manca molto ma fortunatamente uno staff che sopperisce perché ci sono delle persone nello staff che hanno anche incarichi di curatela e di e di coordinamento degli allestimenti che possono e poi un'altra arma che che uso è quella di ingaggiare dei curatori dall'esterno ad esempio su villa delle rose sulla project room questi sono luoghi dove la mia curatela non c'è quasi mai o è una co curatela però sono molti e questo ovviamente è anche nel insito nella programmazione scientifica di un museo sarebbe stupido fosse la espressione semplice di un'unica persona ma deve essere un terreno di confronto su villa delle rose è stato fatto un lavoro proprio metodico in questa direzione in quanto quello è un luogo dedicato a collaborazioni internazionali quindi tutte le mostre che ci sono sono collaborazioni che sono anche dialoghi tra curatori prima mostra it's okay to change your mind che era dedicata a giovani artisti russi che è stata co curata con suad garajeva malekhi che è una curatrice direttrice dello yerat center di baku in azerbaijan poi c'è stata la mostra di mariella simoni che era curata da barbara van der linden e adesso chiuso domenica scorsa la mostra di goran troubuliak che è stata fatta col cac di ginevra e andrea bellini quindi è proprio un costante dialogo un terreno di confronto la project room ancora di più project room è veramente l'esplosione anche delle diverse voci perché rappresenta un luogo che deve essere veramente un luogo di scambio dall'altro lato chiaramente dal mio percorso professionale si è spostato molto su una posizione più di management culturale di identificazione e posizionamento di un'identità possibile per un museo che è un'altra cosa ma mi piace moltissimo mi entusiasma altrettanto entusiasmante ovviamente è meno a che fare con gli artisti che è una cosa che ogni tanto manca o no ogni tanto può essere un vantaggio però dall'altro lato è entusiasmante perché sono spazi molto importanti e vedere che comunque c'è una risposta da parte del pubblico della critica agli artisti è molto bello perché quindi facciamo parliamo dal lato del manager del manager secondo che c'è una risposta sufficiente da parte del pubblico per giustificare diciamo gli investimenti materiali e immateriali umani e economici che si fanno in istituzioni del genere o bisognerebbe cercare di stimolare una risposta maggiore una partecipazione maggiore questo è tutti i giornalisti e tutti i politici alla fine si arriva sempre lì e la risposta sembra la stessa alla fine perché è un po la scommessa di questo di questi di questi anni no sì però il punto che questo è un discorso che si fa spessissimo anche con tra gli altri direttori di museo di arte contemporanea non solo italiani che senso ha valutare un museo dal numero di biglietti che adesso non sono neanche più se le valutazioni spesso non avvengono neanche più sul numero di biglietti ma addirittura sull'incasso ancora peggio ancora più aziendale come modello sì però il c'è un paragone che secondo me è calzante adesso recentemente repubblica ha pubblicato come fa tutti gli anni queste paginoni questa guida dell'orientamento per gli studenti che dal devono scegliere il liceo scelgono il liceo e c'è questa classifica c'è tutti gli anni di dei licei d'italia il miglior liceo d'italia eccetera quali sono i criteri di valutazione dei muse dei licei d'italia sono vari tantissimi più che legittimi la qualità dell'offerta didattica la preparazione degli insegnanti la struttura e i servizi offerti eccetera eccetera che compongono una valutazione che al fondo porta a un numero un coefficiente che poi fa questa classifica ora se questa cosa qui è accettata per le scuole perché non è accettata per i musei io mica valuto un liceo in base a quanti iscritti ha lo valuto in base o quanto o peggio ancora quanto guadagna di vuote essendo magari una scuola privata versata dagli studenti perché devo applicare questo modello invece a un museo che comunque un ente culturale un ente educativo questo è un po è una provocazione ovviamente però penso sia calzante noi dobbiamo pensare come musei direttori gente che lavora dentro i musei operatori culturali che i criteri di valutazione di un museo non possono essere solamente legati al pubblico poi io sono fortunato perché quando comunque escono i numeri del pubblico non mi posso lamentare perché il mambo è un museo molto visitato chiaramente noi abbiamo mostre temporanee collezione permanente museo morandi e questo siamo l'unico museo pubblico di arte contemporanea a bologna e questo ci aiuta siamo in un posto strategico un edificio monumento della storia ma anche dell'architettura bologna e quindi siamo un museo molto valutato ma molto visitato ma anche non lo fossimo non sarebbe comunque giusto perché l'attività la ricaduta vera di un museo non è quella del numero dei visitatori e quindi questo noi dobbiamo cercare con il nostro lavoro di rappresentare la ricaduta vera e la ricaduta di educazione che del lavoro che fa il dipartimento educativo delle persone che tornano del fatto di riuscire a portare a termine dei progetti ambiziosi come portare in una città che non è una capitale dell'arte degli artisti di primo piano riuscire a produrre delle opere nuove riuscire a incrementare la collezione permanente che è un patrimonio pubblico di tutti questi sono gli obiettivi secondo me che dovrebbero costituire una valutazione di un museo soprattutto di un museo pubblico il pubblico nel nostro caso ci premia però per me viene dopo questi altri obiettivi questo dato strettamente numerico viene dopo il fatto che questa abitudine prima parlavamo di abitudine della frequentazione degli spazi espositivi in quel discorso lì l'attività del dipartimento educativo della galleria d'arte moderna adesso del mambo non può che non essere citato non voglio citare i numeri per se non mi contraddirrei quello che appena detto però veramente il la qualità e anche la sperimentazione messa in campo dagli operatori culturali e da chi si occupa del dipartimento educativo della galleria è commovente che sono grossi musei internazionali che vengono qui a vedere come si muove il dipartimento educativo è una vera eccellenza il fatto che tutta una generazione ormai quasi una generazione in mezza di bolognesi siano passati a scuola nei nostri musei non solo nel mambo ma in tutti i musei civici bolognesi adesso ha preparato una nuova generazione di frequentatori di quei musei e quindi noi cominciamo a vedere un ritorno di gente che ha ero venuta con la scuola però questa è una valutazione dell'impatto vero di un museo se noi parliamo del costo allora se io devo ragionare in questi termini un bambino che viene al museo gratis magari dopo che ha avuto tre o quattro laboratori in classe in un quartiere periferico di bologna quindi ha avuto quattro lezioni quarti workshop di preparazione della sua visita in classe gratis e dove sono stati mandati due operatori del pambo pagati giustamente dal ma poi quella classe venuta qui ed è entrata gratis ha avuto una visita guidata un laboratorio questo quanto è costato se vogliamo parlare è certo che è costato sì però se non faccio queste cose non ha nessun senso la mia attività come come museo assolutamente però ovviamente diciamo il discorso è sempre nell'area perché poi bisogna fare i conti con la realtà i conti devono tornare certo quindi come come si fa in un istituzione del genere a far tornare i conti da dove vengono allora il nostro bilancio trasparente quindi non abbiamo giustamente essendo noi un museo pubblico il nostro bilancio è un bilancio pubblico noi abbiamo un trasferimento da parte del comune come istituzione bologna musei quindi come network di 14 musei questo trasferimento di soldi da parte del comune copre circa poi ve li litigate poi li litighiamo ovviamente il nostro direttore maurizio ferretti deve lui sedare le risse però questo questo budget copre circa la metà del budget totale dell'istituzione tutto il resto sono entrate nostre quindi sono i biglietti i laboratori l'affitto degli spazi le gestioni per le caffetterie eccetera sono bandi pubblici ai quali noi possiamo applicare non quelli comunali ovviamente ma quelli della regione della comunità europea del del ministero dei beni culturali ad esempio un grosso successo è stato l'italian council che ci ha dato un grosso budget per la mostra di cesare pietro giusti che inaugureremo a ottobre quindi ci sono tutte queste attività e poi sponsorizzazioni private di vario tipo sponsorizzazioni tecniche ci sono dei musei che hanno dei gruppi di amici del museo oppure sponsorizzazioni sul singolo progetto questa mostra è molto interessante per quell'azienda che vuole fare da main sponsor eccetera quindi più o meno funziona così chiaramente abbiamo delle politiche di fundraising che tutte le istituzioni musei ormai devono avere perché le ambizioni che abbiamo sono quelle di continuare quindi fermo restando il trasferimento del comune continuare a aumentare questo nostro queste nostre entrate singole per farle diventare sempre più importanti e quindi poter investire ancora di più sulla nostra offerta quanto è facile o meglio quanto è difficile coinvolgere il privato coinvolgere le aziende in progetti culturali oggi e perché non c'è una risposta univoca di nuovo siamo rispetto ad altri paesi in cui questa cosa è più consolidata scherzando un altro curatore con cui parlavo di questo che che lavora negli stati uniti dice voi in italia avete un approccio completamente diverso perché se dovete raggiungere una somma per riuscire a fare un progetto voi bussate a 50 porte chiedendo poco a ognuno finché non raggiungete quella somma noi invece io se ho bisogno di una somma vado finché non trovo uno che mette quell'intera somma ecco in italia non c'è quello che mette l'intera somma e se c'è si è aperto il suo museo se gli interessa l'arte contemporanea si è aperto il suo museo la sua fondazione che è una cosa ottima perché entra a far parte del sistema io stesso ho lavorato in un museo privato per tanti anni e in alcuni casi come in quel caso lì era colmare proprio anche un vuoto a milano colmano le fondazioni private un ruolo un vuoto pubblico istituzionale pubblico però garantendo un livello altissimo di produzione che colloca un'intera città qui anche a bologna ci sono degli esempi di musei privati con una programmazione ottima o con anche un indirizzo specifico con i quali io collaboro benissimo chiaramente quello nella mia ottica di fundraising è complicata da gestire perché giustamente chi ha il suo museo al suo museo quindi è difficile trovare in italia un interlocutore che si prenda a cuore ed è difficile applicare modelli assolutamente di altri stati però dall'altro lato quindi c'è questa difficoltà di fondo dovuta all'ambiente poi comunque rimaniamo sempre dirò una cosa banalissima però rimane il paese dei cento campanili per cui c'è questo problema e questo problema è che veramente presente quindi e soprattutto nei centri appunto più piccoli rispetto alle capitali però dall'altro lato sono sempre di più le aziende gli imprenditori che si avvicinano e quindi quello che è stato sdoganato un po e anche il lo sponsor singolo la singola presenza in cartella stampa sulla singola mostra perché il tema particolarmente interessante oppure quello che funziona anche molto bene la produzione delle opere siccome uno dei miei tarli e questo mi deriva dalla fondazione san rettore baudengo da bonami e tutte le persone con cui ho lavorato che uno degli obiettivi era sempre quello di far progredire il lavoro dell'artista dare l'artista la possibilità e il budget di fare un qualcosa di nuovo che è sempre un salto nel vuoto ma è veramente la quintessenza di fare una mossa o essere un curatore e quindi mi è rimasta questa cosa e qui cerco di portarla avanti in questo ambito specifico l'aiuto del privato è molto interessante è molto più stimolato e vedo che funziona questo funziona molto c'è un mondo del collezionismo bolognese emiliano molto ricettivo e interessato appassionato e devo dire che in queste cose ci sono vari esempi in questo anno e mezzo che sono qui di collaborazioni che hanno portato dei risultati molto buoni quindi come funziona loro acquisiscono funziona che io ho un artista che mi propone sul mio suggerimento di un progetto nuovo il museo non potrebbe sostenere quella spesa il collezionista privato mette a disposizione quella spesa nell'ottica poi una volta finita la mostra di comprare all'artista l'opera il museo non c'entra niente in tutto ciò però ha la possibilità di di avere in mostra delle opere nuove di far progredire quel lavoro e l'artista ha la possibilità intanto di realizzare delle opere che difficilmente avrebbe avuto il budget per realizzare ma poi anche di vendersi e quindi alla fine di avere ancora un tornaconto la quadratura perfetta del cerchio in questo discorso e poi se quell'opera quel collezionista la lascia al museo cosa che è successa in alcuni casi e quello è proprio perfetto perché è un'opera che è stata prodotta ad hoc per questi spazi che è stata resa possibile grazie a un intervento privato e che rimane a disposizione del pubblico anche fantastico succede speriamo succeda sempre di più però quello è un modello che vedo funzionare ma quindi come funziona questo genere di lavoro avete qualcuno che lo fa sistematicamente o è fatto a no perché dipende molto da progetto progetto e poi ovviamente ci sono vari livelli sia di proposta di budget che di collezionismo quindi ci può essere ad esempio la mia prima grande mostra nella sala delle ciminiere è stata questa mostra si intitolava dead seat sull'ultima generazione di artisti in italia è un metro e 80 oltre il confine che dava una fotografia una rappresentazione della generazione di artisti italiani nati negli anni 80 e primi 90 in quel caso erano oltre 56 artisti e collettivi e molte delle opere che gli artisti mi hanno proposto erano delle nuove produzioni in quel caso ha funzionato benissimo c'è in molti casi il progetto dell'artista l'ho sottoposto a collezionista una persona che conoscevo che poteva essere interessata a quelle proprio dalle relazioni dirette personali non c'è il classico ufficio founder esi ma in italia da qualche parte secondo te c'è una situazione che ha sì sono tantissime e noi adesso abbiamo attivato un per esterno abbiamo abbiamo trovato appunto con le procedure che possiamo da come amministrazione pubblica abbiamo attivato una una collaborazione proprio in quell'ottica lì perché sono strumenti che bisogna provare sarà un esperimento ci sono altre ad esempio la fondazione cineteca di bologna ha un'azienda che si occupa di fundraising su quella scia lì anche l'istituzione bologna musei sicuramente una strada da da percorrere da approfondire certo ma e quindi come è stato rimanendo sempre un po in campo fra rigolette management come si racconta un museo così così complesso come il mambo come si fa a far passare fuori in maniera semplice perché poi il messaggio alla gente deve arrivare in maniera semplice questa complessità ma si si fa attraverso dei piccoli gesti ma significativi quindi si fa attraverso il fatto che abbiamo ottenuto un'apertura dell'ora è un'apertura serale che sembra una cosa banale ma non lo è per niente quindi il giovedì sera noi chiudevamo alle sei e mezza adesso chiudiamo alle 22 questa è una cosa che viene percepita molto perché in realtà ho convinto i miei capi a dell'opportunità di questo capi e sindacati ma quelli per fortuna non hanno detto niente no perché il mambo aveva moltissimi eventi serali questi eventi serali ovviamente causavano un'apertura straordinaria il personale doveva fermarsi guardia sala reception e però erano vari random nelle giornate quindi ho detto ma se noi categorizziamo una serata possiamo poi focalizzarci centrarci esclusivamente su quella serata lì e focalizzare i nostri eventi su questo modo che si sappia che quella è la serata mambo e quindi noi adesso questo dopo un anno sta cominciando a funzionare adesso ad esempio siamo a marzo e fino a giugno abbiamo tutti i giovedì pieni quindi è questo da un lato del calendario funziona risparmiamo anche un po di soldi sulla gestione del museo ma soprattutto la gente comincia a venire e comincia a pensare al museo non solo come un luogo dove si va ogni volta che cambia la mostra perché purtroppo le mostre non riusciamo a cambiarle ogni settimana ma che in cui si può andare anche tutte le settimane perché il giovedì sera come minimo ti puoi bere un buon aperitivo nel nostro fantastico caffetteria bar ex forno e assistere a una conferenza o un artista una performance sai che qualcosa succede questo piccolo gesto mi comunica anche un'identità di museo che appunto non vuole più essere il luogo da visitare ogni qualvolta o una volta nella vita per vedere tipo la collezione permanente oppure quando avviene un tuo amico dice ti porta a vedere morandi ma invece no ti porto il giovedì che c'è ovviamente comunichiamo evento per evento però mi piace pensare che la gente può anche dire giovedì andiamo lì anche senza non sapendo che cosa ti puoi aspettare oppure un altro piccolo gesto è stato quello di aprire la grande vetrata che dà sotto i portici e quello ha un sconvolto tutti quelli che erano abituati a vedere il museo prima e ha detto ah wow perché è cambiato qualcosa e questo beh non è una una cosa inusuale ci sono moltissimi musei noia nazionale la galleria il pompidù che hanno grande però vedo che quelle cose li funzionano proprio nella percezione pubblica dello spazio perché sotto il portico tra l'altro i portici di bologna che sono un simbolo della città i 42 chilometri di portici e la candidatura sotto il portico del mambo passano migliaia di persone ogni giorno ora ognuna di quelle persone lì può avere una piccola vista della mostra nella sala delle ciminiere e da un lato mi dà questa apertura il senso del museo pubblico come uno spazio aperto che non è chiuso in se stesso non devi sicuramente pagare un biglietto per poter avere un privio non abbiamo paura di dire dentro c'è una mostra anche se ne vedi una fetta bene dall'altro lato da fuori vedi la città che è ancora più importante se vuoi perché è il museo che si affaccia sul suo contesto e quindi questi piccoli gesti secondo me comunicano molto di più che le politiche di bigliettazione di tariffe o di orari in realtà io penso che quello che sta funzionando di più siano appunto questi piccoli gesti che ti dimostrano un pochino il modo la modalità un'altra delle cose che facciamo è la festa del mambo durante artefiera adesso è diventato un po' una consuetudine in questi due anni che il sabato sera che è la notte bianca dell'arte a Bologna ci si ritrovi alla fine di tutto il giro estenuati da una settimana di opening e in conte ci si ritrovi al mambo per festeggiare l'arte contemporanea in città e per scoprire il programma del mambo per tutto l'anno ecco questa è di nuovo una cosa il museo è aperto gratuitamente per tutti tutti gli spazi sono aperti si possono vedere mosse collezioni permanenti si può bere e c'è musica e vengono artisti fare performance questo è di nuovo un momento che racchiude in sé un significato molto più ampio che è ok questo è il museo di tutti e la settimana dell'arte alla fine si conclude idealmente questo percorso della settimana dell'arte a mambo dove si si dà un po' un'agenda dell'anno si scopre un po' quello che sarà l'offerta di tutti gli appuntamenti ricorrenti in qualche modo fanno le consuetudini creano poi un rapporto esatto ed è molto bello ma avendo il discorso che stavi accennato delle strategie di biglietteria comunque il modello di funzionamento del museo oggi quindi diciamo il modello classico ecco pago il biglietto entro mi vedo quello che voglio secondo è un modello che può funzionare ancora o c'è qualcosa che può cambiare migliorare parlavo per esempio qualche settimana fa con un con un ragazzo un operatore anche lui del settore culturale che si occupa anche molto di videogame e parlavamo di questa idea di poter applicare il modello dei videogame al museo che sembra una follia però in realtà ci sono tante cose che potrebbero potrebbero ritornare per esempio anche semplicemente il modello diciamolo con una parola brutta di business oggi il videogame che fai non lo paghi più il video che me lo scarichi gratuitamente lo puoi usare gratuitamente e paghi solamente delle cose in più degli esatto non potrebbe anche il museo andare in questa direzione io anche qui si è visto ad esempio recentemente con la polemica comunque dibattito relativo alle domeniche gratuite anche qui è completamente diverso museo per museo cioè torniamo discorso che facevamo prima dove ovviamente nelle io sono molto favorevole alle domeniche gratuite perché vedo che il pubblico del mambo in quelle domeniche gratuite aumenta riesco a gestire quel flusso di pubblico ne ho un beneficio anche economico perché comunque il pubblico non paga solo il biglietto qui consuma la caffetteria si compra il catalogo consulta i libri in biblioteca cioè comunque fa girare la macchina quindi non è che bisogna starli a guardare io ho un biglietto di ingresso di 6 euro intero 4 euro ridotto quindi chiaramente le economie derivanti dai biglietti non mi spostano tantissimo però mi sposta invece il catalogo comprato la caffetteria che funziona il museo pieno e tutte quelle quei discorsi e quindi non si può fare un discorso generale e invece la domenica gratuita agli uffizi o al colosseo crea disastri gente che si porta via le opere e dei bagni che bisogna pulirli ogni due ore perché poi i problemi dei direttori sono questi qua io ti do l'ingresso gratuito ma anche a Bologna museo archeologico museo in piazza maggiore eccezionale secondo museo etrusco d'italia con una collezione veramente eccezionale e ad esempio loro con le domeniche gratuite hanno problemi di questo tipo mi dicono io ogni tre ore devo mandare qualcuno pulire i bagni perché ho migliaia di persone per le sale devo mettere guardia sala in più quindi è un discorso che non si può fare in senso generale io sono molto d'accordo sul fatto che il museo pubblico debba consentire delle gratuità in particolare ai residenti quindi su quei discorsi lì io sono sempre molto favorevole in particolare sui residenti e in particolare sulle collezioni permanenti quindi il modello si paga il modello videogame si scarica gratuitamente cioè si entra gratuitamente alle collezioni e si paga la mostra temporanea mi sembra un modello molto giusto sia ideologicamente che fattivamente perché la collezione è lì io ovviamente spendo per valorizzarla spendo per tutelarla per conservarla bene perché la mostra ha un investimento particolare più pressante preciso per cui ti chiedo un biglietto per quella mostra lì che valorizza anche un po' l'esperienza diversa che tu faccio quindi su quello sono d'accordo le domeniche gratuite comunque mi trovano d'accordo magari cadenziate nel tempo magari non tutte le prime domeniche del mese magari con eventi particolari come funziona molto bene la giornata del contemporaneo Amaci come funzionano molto bene la giornata dei musei bolognesi questo che abbiamo proposto eventi che riescano non solo a dire alla gente puoi entrare gratis ma entri gratis perché oggi è la giornata dell'arte contemporanea in Italia perché oggi i musei di Bologna festeggiano la loro identità questo lo trovo più giusto che non orizzontalmente l'altra cosa che invece che pure trovo molto interessante è un margine di ragionamento che penso che prima o poi tutti i musei faranno è quella della stagionalità un po' come i biglietti aereo anche nella settimana anche nelle diverse fasce orarie questo ha molto senso ha molto senso dire se vieni martedì paghi meno che se vieni sabato oppure se vieni alla settimana dell'arte se vieni ad agosto paghi diversamente che se vieni a ottobre questo penso sia in realtà il più interessante sviluppo delle politiche tarifazioni stai dicendo prima delle entrate collaterali, cataloghi eccetera eccetera mi hai fatto venire in mente una domanda che a me sta molto a cuore io nasco come editore, faccio editore da tanti anni soprattutto di cataloghi d'arte ha ancora senso fare i libri cartacei e perché? per un museo ovviamente ho anche in questo una risposta ambivalente perché in realtà sì, sì, ha ancora senso ha ancora senso perché comunque resiste la memoria cartacea e le mostre passano ma i cataloghi restano e comunque ancora il catalogo monografico uno strumento per gli artisti una sorta di consacrazione dell'artista e quindi sì, ha ancora senso investire in progetti editoriali dall'altro lato stiamo cercando di un po' superare i modelli editoriali presenti per cui sia il catalogo di That's It che in realtà è un'opera quindi un artista ha partecipato alla mostra facendo il progetto del catalogo e un altro artista ha fatto come opera la font del catalogo quindi diventa anche il catalogo, libro, quello è un libro più che un catalogo, un materiale di conquista è uno spazio espositivo, l'ho definito, ulteriore e su quel modello lì sono state fatte diverse esperienze da quando sono qua quindi non è sempre il catalogo, foto, dell'opera, descrizione ma è sempre un'occasione quello che c'è da superare non è tanto il catalogo cartaceo secondo me che ha ancora una sua validità quanto più il modello catalogo quindi appunto le didascalie che ho messo in mostra le rimetto nel catalogo invece no, quello che può essere considerato veramente un ulteriore spazio espositivo a corredo della mostra è permanente perché è poi effettivamente la cosa che rimane sì, oppure comunque probabilmente lavorare sul contenuto in una maniera differente perché oggi il contenuto vuole e deve forse anche essere più liquido noi per esempio stiamo lavorando molto su questo concetto che non è più il supporto, il contenitore la cosa importante, quindi la carta o il digitale forse non bisogna neanche far più sta distinzione ma quello che vogliamo raccontare quello che vogliamo raccontare che può essere sviscerato dalla carta al digitale in un cortocircuito assolutamente e poi sono occasioni io penso che il prodotto editoriale relativo a una mostra sia anche un'occasione sì, sì perché ad esempio Mika Rottenberg Mika Rottenberg nell'ultimo anno, negli ultimi due anni ha avuto 12 cataloghi monografici in sei lingue lo so perché li ho studiati per preparare la mostra e quindi quando poi si è trattato di pensare a fare un progetto un prodotto editoriale che accompagnasse la mostra ci siamo detti ma che senso ha fare l'ennesimo il tredicesimo catalogo in due anni del tuo lavoro tra l'altro Mika Rottenberg nel 76 ha un portfoglio ampio ok, però le opere sono quelle quindi alla fine se uno li mette come io in libreria se uno li mette tutti vicini sono quelli c'è dei cloni esatto e allora cosa abbiamo fatto? in quel caso lì abbiamo trovato un testo che Germano Celent aveva scritto due anni fa su di lei che non era mai stato pubblicato abbiamo detto va bene allora facciamo un compendio alla mostra un piccolo libro si chiamano Instant Book è una collana di libri che fa il mambo in cui in occasione della mostra pubblichiamo quel testo testo approfonditissimo, inedito e così è stata occasione per fare veramente un'opportunità per dare un valore aggiunto in più alla mostra che non fosse il catalogo canonico per la mostra di Julien Charrier stiamo lavorando su questa dinamica di nuovo non sarà il catalogo opera di descrizione ma un prodotto completamente diverso che la gente che verrà avrà la possibilità di comprare un oggetto che è andato a casa non è di nuovo la mostra ma ha una sua vita a sé stante deve essere un libro con una sua vita a sé stante e un contenuto che magari ti fa anche uscire fuori dalla carta ti porta per altre strade io penso che voi c'avete la collana di Instant Book noi abbiamo fatto invece un progetto che in realtà abbiamo preso spunto dalla New York Public Library e facciamo gli Instant Book cioè gli libri sfogliabili sulle stories di Instagram che è una cosa che è anche quella questa era una cosa degli Instant Book invece si chiamano i nostri che è stata pensata, progettata da Gianfranco Maraniello con l'ufficio editoriale qui interno del Mambo che si occupa poi della veste grafica dell'impaginazione, della realizzazione materiale e che io ho continuato perché è un modello molto interessante costano 5 euro e si sa che è uno strumento aggiuntivo e quindi devo dire che anche le vendite di questi oggetti funzionano molto bene che non è il catalogo da 50 euro 50 euro 60 euro impegnativo infatti che poi il turista si deve portare dietro sono molto leggeri e funzionano bene quindi progetti per il futuro? tuoi e progetti per il futuro per il Mambo? dunque io sono quasi a metà mandato e mi trovo molto bene quindi sto cercando di gettare un po' le basi magari anche per provare a rimanere cercare comunque come funziona dal punto di vista? ci sarà un altro bando sicuramente o comunque io scadrò nel 2021 però insomma io sto cercando di lavorare non pensando a quella scadenza ma cercando di fare un discorso di più ampio raggio questo non è un po' un limite che ogni pochi anni è un limite ma che uno in quattro anni in quattro anni è un po' che complicato il primo anno serve per capire dove sei finito il secondo per capire come fare le cose e poi adesso sto cominciando a farle è veramente un tempo limitato è un tempo limitato però funziona così cioè bisogna anche pensare che se vuoi lavorare in questo settore devi anche imparare a lavorare con queste condizioni però quello che sto cercando di fare un po' appunto perché mi trovo molto bene stiamo facendo anche delle scelte strutturali per poter gettare le basi e anche quello di ragionare più a più lungo termine nella speranza poi di poter essere confermato essere rinominato e vedremo questo quindi in futuro mi vedo ancora qui nel senso al Mambo, a Bologna cercare di continuare questi discorsi che sono aperti moltissimi sono moltissimi gli obiettivi che abbiamo che vanno dalle grandi mostre che stiamo cercando di continuare a portare a Bologna grandi artisti mai visti prima in Italia collaborazioni internazionali e tutto questo c'è un discorso sugli studi degli artisti che mi piacerebbe cominciare veramente a gettare le basi per la realizzazione dei Mambo Studios e poter pensare insieme a un qualcosa che possa poi appunto sopravvivere anche alla mia esperienza qui ma essere un punto di riferimento anche per quel settore lì degli spazi dedicati agli artisti poi ci sono dei discorsi relativi che mi piacerebbe avviare a possibili collaborazioni stabili con l'università quindi pensando a progetti formativi in comune percorsi educativi in comune sulla scia di grandi musei all'estero soprattutto noi abbiamo la fortuna di avere in città la più antica università del mondo il primo Dams il primo Dams mai pensato è nato qui mi sembra giusto che in questa città il Dams e il Mambo facciano un progetto insieme e su questo stiamo lavorando però è un progetto a lungo termine poi ne ho altri che se vuoi sembrano più piccoli ma non lo so, simbolici ecco mi piacerebbe riportare le ciminiere al loro antico splendore quindi queste ciminiere della sala delle ciminiere che è di nuovo un piccolo gesto lo spazio espositivo si chiama sala delle ciminiere adesso e le ciminiere ci sono le abbiamo liberate da tutti i buri di cartongesso eccetera ma sono delle colonne bianche e mi piacerebbe con l'aiuto della sovrintendenza restaurarle e riportarle al loro antico splendore di ferro e mattoni sembra una cosa piccola ma io penso che possa veramente essere il simbolo anche di un cambio di vista sullo spazio ritorniamo alla politica dei piccoli gesti dei piccoli passi che sono poi alla fine quelli che funzionano e che danno dei segnali costanti nel tempo e a cui la gente poi ha anche modo di affezionarsi è chiaro poi ovviamente ci sono anche continuare le progettualità che sono avviate quindi una riflessione seria sul territorio come il pubblico di rum le residenze per artisti che fortunatamente riusciamo ogni anno a proporre e dare la possibilità degli artisti di venire a Bologna a vivere la città e produrre dei progetti qua va bene quindi seguiamoci e vediamo volentieri e vediamo che cosa riusciamo a portare avanti grazie mille grazie a te grazie